Fulvio Valbusa, benvenuto nel posto delle parole. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a voi di questo invito. Eccoci qua per raccontare il libro scritto da Fulvio Valbusa con Serena Marchi, il libro intitolato Randaggio, pubblicato da Fandango, già particolare dall'immagine di copertina su cui andremo a curiosare fra poco perché la copertina merita veramente una sottolineatura. Stiamo parlando, per parlare, del premio di letteratura sportiva Gianni Mura, storie di sport, passioni e grandi imprese. Chi sono i vincitori? Serena Marchi e Fulvio Valbusa con Randaggio, pubblicato da Salano, Silvia Salis con La bambolina più forte del mondo, pubblicato da Salani. Ora qualcuno si potrà chiedere, ma chi è mai Gianni Mura? Chi se lo ricorda Gianni Mura nel suo raccontare lo sport? Allora, Fulvio Valbusa, cosa ricordi di Gianni Mura? Gianni Mura è uno sportivo, non può non conoscere un giornalista simile perché naturalmente, e dopo tra l'altro era anche il giornalista che ha sempre seguito più il tennis, però io lo ricordo perché naturalmente quando correvo, parliamo di 30 anni fa, 15 anni fa ho fatto la mia ultima gara, quindi capiamo bene che si parlano di miei tempi e quindi quando si parlavano di questi grandissimi giornalisti che seguivano lo sport, Gianni Mura era una colonna con la sua voce, il suo modo di fare, era veramente una persona che non passava inosservata ma anche proprio per il suo modo di come fare giornalismo sportivo. Noi l'avevamo anche ospitato in occasione dell'uscita del suo romanzo, il primo romanzo che era Giallo su Giallo, che aveva ricevuto il premio Grinzane per la narrativa e forse anche altri premi ed è stata veramente una bella scoperta trovare Gianni Mura che conoscevamo come scrittore di articoli anche da un punto di vista di narrazione di Giallo, firma storica di un giornale che non so se esiste ancora, del Guerin sportivo, ahimè, denuncio la mia ignoranza, esiste ancora questo giornale? Ma non te lo saprei proprio dire, sicuramente lo ricordo, ma non so se esiste ancora proprio questo famoso giornalino. Ai voglia, altro che famoso. E Fuglio Albus adesso ci racconta il suo libro. Partiamo, Fuglio, dall'immagine di Copertina perché è un'immagine composta e in questa composizione troviamo veramente la sintesi di questa storia. Ma troviamo sicuramente poco di sci perché magari qualcuno si aspetta dal libro che si parli e si narri tanto di sport, di risultati e quant'altro, ma ahimè ne rimarrà deluso, credo, perché il libro come anticipa appunto la copertina con questa foresta che è dietro a questa immagine di una figura, di un viso e di un animale che ormai è anche alle cronache di tutti i giorni, perché i lupi ormai sono alle cronache di tutti i giorni, perché il lupo si sa non è un animale indifferente, è un animale che da quando esiste ha sempre portato grande conflitto. E quindi, sai me, questa copertina è nata, guarda, è nata su un disegno fatto la prima volta ed è stato lasciato così come è nata, proprio senza nessun tipo di correzione che magari il grafico dell'editore vuole metterci le mani, lui l'ha fatta e l'ha lanciata ed è uscita così. Bellissimo, a mio avviso è una copertina strepitosa, bellissima. Non perché il mio libro è, però è veramente bella. E raggruppa tutte quelle che sono, che è la mia storia, da piccolo, da quando sono passato dal mondo praticamente di essere un ragazzino spensierato come tanti altri, a quando sono passato a decidere di cosa fare della mia vita, diventare uno sportivo professionista e poi con la fine dell'attività sportiva e decidere appunto cosa fare. e il lupo è stata una parte fondamentale di questa storia. E decidere quindi di raccontare, coniugare questo verbo così importante fino ad arrivare alla parte finale di questo premio Gianni Mura che Serena Marche e Fulio Valbusa riceveranno il premio come miglior libro di letteratura sportiva. Beh, questo mi sembra veramente una sottolineatura molto bella. Guarda, mi viene la pelle d'oca su tutta la schiena perché mai avrei pensato di riuscire a raccontarmi grazie naturalmente a questa persona perché non saprei neanche come, che termini usare per descrivere Serena Marchi. È stata una giornalista, scrittrice, però ha saputo entrare nella mia vita talmente tanto che a un certo punto, credimi, sembrava quasi che non se ne facesse nulla di questo libro perché quando uno scrittore si immedesima sembra una bagianata a fare e scrivere un manoscritto ma non è proprio così. Bisogna dare atto che se questo libro è nato è grazie a Serena Marchi proprio perché ha rotto anche le scatole però è stata una grande spinta. Sì, ma infatti No. Lo sci diventa un protesto per raccontare molte altre cose nel corso della scrittura di questo libro. Ma allora, i risultati si sa benissimo si possono leggere su Wikipedia si guarda sul computer i risultati sono alla luce di tutti è quello che sta dietro magari a raccontare quello che sta dietro ad una gara cosa succede prima di una gara cosa succede intorno a una famiglia di uno sportivo perché naturalmente siamo persone normalissime quindi sembra tutto bello wow, tutto, permettimi questo termine, figo ma non è proprio così e quindi raccontarmi nel profondo a 360 gradi non è stato facile perché si vanno a scoprire anche proprio delle debolezze delle debolezze che sicuramente a raccontarle non è semplice però se non racconti la debolezza di una persona la fragilità di una persona racconti semplicemente la parte che sepoliamo è la parte vetrinizzata della vita e invece ogni vetrina ha qualche cosa anche che cigola, che non è perfetto ha delle ferite, ha dei problemi ha dei dubbi, ha dei drammi e questa è la cosa che palpita molto nell'essere randagio è proprio così guarda, io ho un mentor è una persona che mi è stata vicina da quando praticamente ho iniziato a praticare il mio sport ed è il mio allenatore che allora mi ha fatto più che da allenatore da papà perché mio padre scomparsa proprio in quel periodo lì questa persona mi prese in mano si chiama Vito, Vito Scandolo lo dico anche perché è una persona veramente carissima che ha saputo prendere in mano questo ragazzo che ormai era forse alla deriva di non si sa che cosa credimi ed ha saputo veramente tirare fuori il massimo e tirare fuori quello che lui vedeva dentro in questo ragazzo e credimi scrivere anche queste particolarità tirando in mezzo tante persone perché dopo non si sa non si sa se faccia piacere a tutti essere scritti essere messi nero su bianco quindi conoscendo anche questa questa persona molto schiva molto umile non è mai venuto a venire a vedermi in una gara neanche ai mondiali o l'olimpiadi che ha fatto quindi figurati che persona deve essere sempre sulle sue però naturalmente quando ci si racconta bisogna raccontarsi a 360 gradi appunto perché hai scelto l'agonismo l'agonismo è stata una botta di vita nel senso che è stata una una parte della mia vita un momento a seguito di un dramma a proposito di cose negative esattamente ha deciso proprio questa mia partenza sportiva perché avevo un conto in sospeso avevo una missione da compiere ed è stata proprio una missione che ho portato a termine quando appunto sono riuscito tra virgolette a vincere tutto ed era una missione che dovevo a questo a questo a questo mio lutto vicinissimo perché era il mio gemello era la mia anima era il mio la mia pelle perché si sa benissimo i gemelli sono qualcosa di di più di un fratello e di conseguenza da quando se ne andò a 15 anni è partita questa questa volontà di dimostrare a me stesso che se sono rimasto io sono rimasto perché perché è stato voluto così e quindi la dimostrazione a me stesso e anche alla persona che non c'era più di riuscire a fare qualcosa di strepitoso con la volontà e diventare uno dei più forti fondisti di sempre perché ti senti randagio ma perché perché non mi sento mai legato a nessun posto a nessun a nessun momento e soprattutto la mia vita continua a cambiare io vedo che dai proprio dai troni diciamo sportivi si possono definire così perché ti osannano ti portano ti lodano in tutto il mondo a un certo punto ti trovi ad essere a non fare più parte di quella di non essere più avvolto da quel cappotto così così bello così positivo ma ci sono altre bellezze a cui tendere ovviamente ci sono cose le cose più semplici le cose più semplici che si scoprono o si riscoprono e possiamo scoprirle anche leggendo questo libro di Fulio Valbus ha scritto con Serena Marchi in titolo è randaggio pubblicato da Fandango Libri ma prima di salutarci due cose che Guerin Sportivo esiste ancora ed è un mensile anche online seconda cosa qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni anzi ti porterai un libro domani andando alla premiazione a Torino ma guarda io sono mi piace leggere tanto veramente e naturalmente vado a e passo da libri l'ultimo il penultimo libro che ho letto è stato quello di Francesca Porcellato per esempio la rossa volante questa atleta paralimpica che ha stravinto tutto con una volontà di fare una storia incredibile da leggere e veramente invito tutti a leggere perché queste sono veramente lezioni di vita e ti dico adesso veramente il mio indirizzo è un po' senso unico leggo tanto sulle tracce dei lupi sto leggendo perché naturalmente non ho ancora imparato tanto non ho ancora imparato tutto e mi piace conoscere sensazioni di altre persone che seguono questi animali questo libro di Anna Consalvo e Ciro Manente che sono due ragazzi che hanno seguito e seguono credo tuttora i lupi per passione per lo stesso motivo che lo faccio io per passione e per quello che ti danno questi momenti eh sì perché poi c'è tutta una letteratura di libri sui lupi ricordo Marco Albino Ferrari di un libro che abbiamo anche raccontato La via dei lupi e poi altre ancora e i lupi sono da sempre delle presenze importanti a volte inquietanti ma sono delle presenze in ogni modo necessarie grazie davvero Fuglio Valbusa del Tempo che ci hai dedicato e buona serata grazie grazie a tutti